Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul DLC di The Walking Dead Abbiamo fatto Vince nella scorsa puntata Il quale è uno sfigato E oggi andiamo con... Coltizio Sarà più sfigato o no dell'altro? Scommesse qui sotto 184 giorni dopo il contagio Quindi tutto il mondo è contagiato Tu vai in giro per una strada Cioè sei scemo Lui non è sfigato Lui è scemo Avete già perso se avete scommesso di lui Ok allora cosa vuole lo zaino? Calma Io credo che... Eh beh allora Secondo me se doiamo più di... Beh sì ma un mesetto ce la fai tranquillo Sì ma lì c'è un cadavere Ok E la merda inizia Cosa? Cosa? Eh ma io stai... Cosa? Io apprenderei, certo? NO! non mi piace non lo so il nome uuh ruffo non ah ok non 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 All right good I don't like that done just get in the car okay you're gonna get here otherwise and I'm bored fun scoot I ain't gonna wait forever fine fuck see if I give a shit okay yeah I'd like to ride that'd be good yeah yeah get in let's tear it up I'm trying to get my grand okay just get in we'll get there or somewhere eventually well I don't think I'm gonna do it I don't think I'm gonna do it no thank you I'm straight thanks you're not uptight are you this is the fucking apocalypse this is like nothing no I'm just good all right all right all right you want to tell me about where you come from at least must have been with a crew un taglio any tailback where you come from maybe drop you off do a double back no ci sono solo morti ovunque no tail damn I retract my question there was a girl who I like to all right the argument semantics russ give a power the deeds all right I can't even play that guy I got family there there all my grandstown states the state's bar the one guy said he used to be a cop nobody really believe the teacher the leader was this guy Steve go back to the daughter steve was a bad dude everybody was with him you know he said seven was the magic number so we didn't add nobody to the group we found survivors it was the same every time he 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 let it out Paco just we're gonna kill these folks and take this stuff or what then bang bello son curioso se c'è una relazione tra qualche personaggio del gioco vero a questo cioè c'è 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 e d'é c'è 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 na Cosa cazza fai Oh Dio Ma sei scemo Ma sei scemo Ok Cazzo Ok bisogna essere morta per un momento lì Cazzo Cazzo Ah abbraccio la relazione tra loro Ho capito Ah questo è il posto Qui inizierà la merda Sono certo Sicuro come il fatto che moriremo tutti prima o poi Positività PORCA Cazzo 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 ho fatto una cosa buona scusa fatte che per quanto è coglione mi ricordo il drugstore dove eravamo con gli altri nel primo episodio tanto lo so che ci chiamano che ci ammazzano ci ammazzano o no? ho visto una persona io che mica devo fare? ok 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 ma non ci sente seriamente? e da quando le poteri vengono aperte il drug in death? se no se c'è proprio spingi i monstri davanti ok ops ooooh get the fuck out of here you monsters whoa gramps i told you not to come back here think you can just leave your mask at home? and now you're with this fucking spook first off watch the fucking racism this is my boy secondly i don't fucking know you ike we were just passing by like anyone else bullshit you came back to finish us off and take all our food you've lost your goddamn marbles she's dying and now she can see your face shut up she can see who took her from me mask what's he talking about? fuck if i know he's crazy have you been here before? russell don't you start you tried to kill us for no goddamn reason if anything we should take you out for that please just get the fuck out of here please leave us alone what do you say, russ? should we just kill these folks and take all their stuff? no what's happening? the psicopatical way i'm done that's it, man i don't know you and i don't want to can't you take a fucking joke? fuck your jokes i'm sorry i'm out come on can we still be friends? no no però mi sa che mi uccide cazzo ho sbagliato cazzo ho lasciato morire un bel po' di gente in questi giorni cazzo è che mi è andato troppo poco tempo sono riuscito a leggere solo le prime due la prima non mi ha convinto la seconda sono riuscito a finirla appena prima che finisse il tempo e ho schiacciato la seconda perché boh magari la terza era rubare la pistola e uccidilo vabbè ho fatto quello ma vabbè purtroppo capita in ogni caso come sempre ho fottuto tutto e quindi ci vediamo la prossima puntata in cui futterò tutto di nuovo lasciate un piacere e iscrivetevi se vi è piaciuta la puntata ed è eric ciao ciao